Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi andremo a vedere come masterizzare un cd audio. Ci sono tanti programmi che possono eseguire questa operazione e ho quello che vi consiglio express.com un programma che vi lascerò in descrizione il link del download di softomic una volta che vi scaricate questo programma come vedete uscirà questa schermata e noi andiamo a selezionare audio cd su create ok come vedete il tempo disponibile che abbiamo è 1 ora e 20 minuti allora per aggiungere le canzoni andiamo a cliccare su add file e andiamo ad inserire tutte le vostre canzoni che preferite io vado ad inserire qualche canzone come potete vedere vado a metterla e come potete vedere ragazzi ho sporato perché qui è la barra iniziale e qui è dove devono finire il massimo delle canzoni come vedete su 1 ora e 20 ho aggiunto 2 ore quindi ovviamente devo eliminare qualche canzone allora 1 ora e 27 devo eliminare solo 7 minuti quindi voi vedete ecco qui ora posso masterizzare il mio cd per farlo dobbiamo cliccare su burn audio cd selezionate la minima quindi 10x e andiamo a cliccare su burn vedete ragazzi ora ci metterà un po' di tempo e una volta che il disco si è masterizzato mi uscirà fuori dal masterizzatore e ragazzi per questo è tutto ci vediamo al prossimo video buona ragazzi ciao 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 ciao